Riuscireste ad usare un tablet senza vedere quello che state facendo? Oppure vedendoci molto poco? Secondo me, no. Ciao, io sono Paul, loro sono Miki, Damiano e mio amico Bracco. Insieme siamo i The Monkey Weather e Bracco rappresenta il Dr. Clown DCO. Ogni anno organizzo alla loggia del Leopardo un concerto di beneficenza in memoria della mia mamma dolcissima. Quindi quest'anno, siccome sono 10 anni, abbiamo deciso di fare le cose un po' più in grande e abbiamo bisogno del tuo aiuto. Vi aspettiamo tutti il 21 maggio alla loggia e adesso Bracco vi racconta cosa possiamo fare tutti insieme. Abbiamo bisogno tutti del vostro aiuto. Noi Dr. Clown lavoriamo e portiamo la Clown Terapia Sorrisi in tante situazioni, tante strutture, dall'ospedale alle case di riposo. E il martedì pomeriggio da diversi anni andiamo a Cannero Riviera alla fondazione di Robert Oldman. Robert Oldman è una fondazione che aiuta i bambini, le famiglie dei bambini con deficit visivi. Quindi sono disabili visivi per cui non vedenti o ipovedenti. È importantissimo il riuscire a realizzare questo progetto che abbiamo in mente perché aiuterà l'istituto, ma soprattutto i bambini a lavorare al meglio con degli ausili indispensabili per i loro tanti progetti. Si tratta di un tavolo che serve a tantissime cose, dalla lettura del braille a libri tattili, piuttosto che all'utilizzo di tablet con delle applicazioni, dei giochi particolari adatti al tipo di disabilità che hanno questi bambini. Per cui davvero noi chiediamo il vostro aiuto e siamo felicissimi che come ogni anno, ma quest'anno ancora meglio perché abbiamo un obiettivo importante, i Monkey alla loggia del Leopardo ci daranno una mano e ci aiutano, ma grazie a voi. Quindi come già detto, quest'anno ci impegniamo a venire qui alla loggia del Leopardo al 21 maggio per aiutare i bambini con la cosa che ci riesce meglio, cioè suonando con altre due band, Ellie Demone e Diego Deadman Patron, per raccogliere fondi per questo importante obiettivo che ci siamo prefissati. Naturalmente premeremo tutte le tue offerte con la musica, dalla più piccola alla più grande. E adesso andiamo a esporle. Faremo una compilation prodotta da Ammonia Records in collaborazione con la Leopardo Records, con 12 canzoni di 12 band per un cuore solo. Le band di scaletta saranno Quindi, visto che vogliamo aiutare i bambini con la musica, l'idea di questa compilation nasce insieme a MusicRazer. Con la campagna di crowdfunding, oltre a regalarti questa compilation appunto, ci darai l'opportunità di aiutare i bambini della fondazione Allman. Quindi, guarda a lato, scegli il premio che più ti piace e in base a questo, dacci una mano. Grazie mille! Quindi, i premi saranno tanti e variegati. Andiamo a spiegartene qualcuno a cui ci teniamo particolarmente. Uno dei premi a cui teniamo di più è la cena, prima del concerto, al vecchio circolino di Prata. Potremmo stare tutti insieme, allegramente, ascoltare buona musica e mangiare un ottimo piatto di pasta e bhajan. Tipico della tradizione solana. Giolli, l'altro premio? Allora, l'altro premio che vado a esporre è questa fantastica giacca che ho usato durante tutto il Turghi. Oja Zuka, che è il nostro secondo album, la mettiamo in premio per voi. Bellissima! Miki, addirittura, ha studiato una cosa speciale perché lui è l'estroso, il batterista matto dell'avendo. Un dipinto su questa pelle, tragicamente rotta. Non in life, però, per fortuna. Frutto del rock'n'roll. Esatto. Ok, concludiamo. Se ti sentirai particolarmente generoso, ho pensato di mettere il basso con cui ho girato il video di Sarah Wants to Dance. È un Fender Messico, precision, battipenna in vera finta pelle umana e decori fucsia, che era il colore del Apple Mini, il nostro ottimo disco. Ok, e allora, la mattina quando mi svegliavo e guardavo le nuvole rose insieme a mia mamma e mangiavamo latte e biscotti, imparavamo a sognare. Il nostro sogno è aiutare questi bambini con la musica. Contiamo su di te. Grazie. Ci vediamo il 21 maggio alla loggia. Yo!